Salve a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata della serie Fermi Amola TV. È la web tv dell'istituto, una web tv dalle 3C, ovvero cultura, condivisione e confronto. Questo progetto intende sensibilizzare gli alunni ad una partecipazione attiva delle attività promosse dalla scuola, rendendoli protagonisti attraverso la realizzazione di prodotti di informazione multimediale. Grazie a questa puntata conosceremo varie rubriche della nostra web tv. Allora, ciao Alessio, dall'inizio della pandemia dura è già passato un anno. Com'è cambiata la tua vita da studente? La mia vita da studente è stata diversa. Stando a casa ho potuto lavorare sulle mie lacune scolastiche. Non potendo uscire ho dedicato naturalmente più tempo del solito allo studio. Lei è favorevole al rientro a scuola durante questo periodo di pandemia mondiale? Non sono del tutto favorevole in quanto c'è la paura. Finora questa scuola ha soddisfatto le tue aspettative? Questa scuola ha soddisfatto le mie aspettative. Ovviamente preferisco la vera scuola. Mi mancano gli amici e le ore passate a divertirci, ma purtroppo siamo costretti a restare a casa. Noi tutti ci auguriamo di tornare nella nostra cara scuola, in modo da poter continuare questo splendido progetto anche in presenza. Ma ad oggi tutto ciò è impossibile. Allora noi cercheremo di intrattenervi con la tv scolastica. Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito. Una barca con vele ammainate in un porto. In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita. Perché l'amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno. L'olore bussò alla mia porta e io ebbi paura. L'ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. Ma al grado tutto avevo fame di un significato nella vita. E adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino, dovunque spingano la barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è la tortura, dell'inquietudine e del vano desiderio. È una barca che anela al mare, eppure lo teme. Vi ringraziamo per aver visto questa puntata del Fermiamo la TV. Noi vi aspettiamo nel prossimo episodio di Fermi Amo la TV. Grazie a tutti.